La giunta regionale della Campania su proposta dell'assessore alla protezione civile Edoardo Cosenza ha stanziato 15 milioni di euro di fondi POR per supportare province e comuni nell'elaborazione dei piani di protezione civile dettando contestualmente le linee guida per la redazione degli stessi. La delibera stabilisce anche le modalità di assegnazione delle risorse. Si terrà conto del livello di rischio al quale sono esposti i territori, ha precisato l'assessore Cosenza ai nostri microfoni. Sarà un ufficio di piano che è previsto nella riorganizzazione della regione Campania. Quindi nelle domande i comuni ci dovranno comunque dare l'ultimo piano di protezione civile che loro hanno in modo che avremo un archivio completo. Nei nuovi piani dovranno seguire le linee guida, i piani verranno validati da noi, cioè senza una validazione ufficio di piano non potranno essere varati. Chi ha già un piano adeguato potrà usare il finanziamento per altre azioni, che sono azioni di diffusione sul territorio dei piani presso i cittadini o anche azioni di cartellonistica, tutte le azioni che possano facilitare l'utilizzo del piano. Il riparto per i comuni avverrà in funzione del numero di abitanti, con un minimo di 15.000 euro per i comuni più piccoli fino a 200.000 euro per Napoli. È prevista una maggiorazione del 25% del contributo ammissibile per i comuni ricadenti nella zona individuata, a rischio vulcanico, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, tra cui il Vesuvio e i Campi Flegrei. Ai nostri microfoni il direttore della Protezione Civile, Gabrielli, ha spiegato quali saranno i requisiti che i comuni dovranno avere per partecipare a questo bando, ma allo stesso tempo ha identificato nell'area dei Campi Flegrei una nuova aria sismica davvero difficile da gestire per la protezione civile. I Campi Flegrei noi riteniamo che molto probabilmente all'esito di questa valutazione concentreremo la nostra attività in termini di pianificazione e quando parlo di pianificazione ovviamente di un vulcano, di un rischio vulcanico, la pianificazione presuppone l'evacuazione. Quindi concentreremo la nostra attenzione ricalcando grosso modo l'ambito di azione del nuovo piano rispetto a quello che era il piano del 2001. Quindi grosso modo i territori e i comuni interessati da un'attività di evacuazione molto probabilmente saranno gli stessi.